Carissimi amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video dedicato all'applicazione KineMaster l'applicazione che vi permette di montare i filmati in mobilità sia per sistemi iOS che per Android Questi tutorial sono focalizzati però sulla versione Android, perché c'è qualche differenza tra Android e iOS Andiamo a vedere in questo nuovo video, molto breve, come si usano i keyframe per animare i nostri oggetti le nostre clip all'interno della timeline, ma solo dopo la sigla Allora per questa occasione creiamo un nuovo progetto, vi ricordo che il comando keyframe è solo valido sui layer quindi non sulle clip che importiamo, vi faccio vedere se io vado a importare un media qualsiasi dalla mia galleria vedete che alla mia sinistra qui non appare praticamente nessun tasto che corrisponde alla chiave quindi cancelliamo quello che ho importato, non facciamo altro che mettere un fondo scuro per non distrarsi vedete che anche qui il tasto chiave non c'è, ma come vado a inserire un nuovo layer media o testo o quello che sia, vado a inserire un tasto media vedete che il simbolo della chiave è apparsa sulla mia sinistra quindi io a questo punto posiziono il mio frame, la mia immagine dove voglio che inizi a cominciarsi ad animare lo rimpicciolisco, lo ruoto, faccio quello che voglio e clicco sulla chiavetta e mi appare praticamente di qua un menu a questo punto devo andare avanti di un frame vedete che compare la C, quindi vuol dire più una chiave io faccio, ovviamente ci clicco sopra e ha creato la prima chiave vado avanti con la mia timeline sposto la mia immagine dove voglio la seconda chiave viene automaticamente creata vado avanti sposto vado avanti e ingrandisco scusatemi il dito marcio e sposto a questo punto se do la mia spunta torno indietro play e la mia animazione è bella che è fatta se voglio editare ritorno sul mio frame che ho appena inserito vado sulla chiave e ho queste possibilità tornare indietro di una chiave o andare avanti di una chiave tornare indietro di una chiave e cancellare la chiave col tasto C meno vedete che io adesso le posso cancellare tutte se voglio e rifare un'altra animazione faccio meno vado avanti meno vado avanti meno vado avanti meno non ci sono più chiavi se io vado avanti non ci sono più chiavi e posso ovviamente ricominciare oppure posso variare una chiave ovviamente se io adesso vado indietro rifaccio un'animazione sposto il mio frame a metà poi lo sposto così ingrandito vado a vedere cosa è successo cosa scusate è successo vedete che si anima però io ovviamente adesso posso intervenire sulla mia chiave giustamente posso cliccare chiave vado sulla chiave che mi interessa ok la posso modificare vado a cliccare sul mio asput punto attorno indietro vedete che la mia chiave si è modificata quindi nulla di più facile gestita molto bene solamente che purtroppo non funziona diciamo sulla clip principale che è i media ovviamente posso fare anche questo su un testo vado su testo scrivo ciao molto banale ok vado su chiave vedete vado avanti creo primo frame vado ancora avanti e a questo punto ingrandisco il mio testo come voglio vado avanti lo ruoto vado avanti e lo rinficcio disco andiamo a vedere torno indietro ricordatevi sulla sinistra avete questi tasti per tornare indietro ok il tasto va indietro all'inizio della clip e quando appare l'altro ovviamente va avanti in coda la clip play abbiamo visto che è molto semplice fare animazioni con i keyframe di kinemaster applicati sulla timeline vi ricordo solo che sono solo applicabili sui layer cari amici grazie per aver seguito questo mini tutorial spero che vi sia d'aiuto i keyframe sono molto importanti e gestiti molto bene direi che i autori di kinemaster hanno fatto veramente un buon lavoro io vi rimando al prossimo vi saluto calorosamente un abbraccio da Gennaro ciao ciao